Musica Sabato 6 giugno Buongiorno, ben ritrovati con l'informazione da TRG anche stamane insieme per sfogliare i quotidiani i quotidiani che parlano di cronaca in prima pagina cronaca che arriva dal capoluogo ma anche dalla periferia della nostra regione vediamo nel dettaglio il giornale dell'Umbria che apre con un'indagine in strada o in casa un terzo delle umbre delle donne a rischio violenza poi vedremo le statistiche anche un vicenda surreale finita davanti al giudice e a proposito di cronaca vista dall'altro lato festa dell'arma in Umbria reati in calo 90 al giorno mentre per le pensioni rimborsi a rischio il decreto del governo conterrebbe in precisione allarme delle associazioni e c'è Maretta nel centrodestra perché Forza Italia dopo il deludente risultato se la prende col sindaco Romizzi, il sindaco di Perugia dice di aver aiutato lo accusa di aver aiutato Marco Squarta, neoeletto di Fratelli d'Italia dicevamo la vicenda un po' surreale viene raccontata da Umberto Maiorca soccorre una ragazza e finisce a processo quasi a voler dire meglio farsi gli affari propri e poi metro di Roma, scontro tra treni, 21 persone ferite l'incidente Europa alla sport, errore umano, ipotesi accreditata sicuramente qualche Umbro coinvolto almeno sul piano indiretto vista la densità di utenza della metro c'è stato edilizia scolastica dal governo arrivano 19 milioni per gli istituti della regione mentre a Gualdo ieri a proposito di cronaca una buona notizia ritrovati gli statuti della città e le pistole che erano state rubate, molto più preziosi i primi ovviamente che erano state rubate alla polizia municipale nelle settimane scorse ancora la Perugia e il comune per la frana di Sant'Antonio servono quattro mesi questo per quanto riguarda i richiami del giornale il Corriere apre invece con Terni la colfa aiutò gli assassini svolta nell'indagine per l'omicidio di Giulio Moracci salgono a sé gli arresti, ucciso l'uomo in casa durante una rapina ma il Corriere dell'Umbria in prima pagina evidenzia i nuovi spazi per la Basilica di Sant'Uballo tra poco vedremo anche il nostro sito in tanti ieri centinaia di persone al taglio del nastro dopo i lavori per recuperare un'area questa esterna che era ormai da decenni nel degrado e che oggi diventa non solo di pubblica fruizione ma insomma fa davvero bella mostra di sé una cerimonia che ha visto la presenza tra gli altri del Cardinal Bassetti del Vescovo Ceccobelli del Sindaco Stirati del Presidente della Fondazione Cassa degli Sparmi di Perugia con la Iacovo fondazione che ha finanziato l'intervento e ovviamente a fare il padrone di casa il Rettore Monsignor Panfili inchiesta a sanità ai militari del NAS in regione vedremo una notizia che troveremo su tutti i quotidiani sembrano indagini di routine ma insomma quando si muovono i NAS qualcosa bolle in pentola a Foligno ore di apprezzioni per un uomo scomparso Pierpaolo Donati di lui non siano notizie da giovedì l'appello dei familiari e poi Umbria carabinieri efficaci più malviventi scoperti e il Festival delle Nazioni che parlerà all'Europa ma la notizia di sport dell'ultima ora e di ieri sera arriva da Perugia e il Perugia ha scelto il nuovo allenatore Pierpaolo Bisoli ex giocatore anche del Perugia giocò nei Grifoni nel 99-2000 è stato anche allenatore del Foligno affiancato dal fedele preparatore atletico Legubino Riccardo Ragnacci ci siamo piaciuti subito dice Santo Padre due anni di contratto Santo Padre ha un progetto importante le parole del tecnico lo scorso anno a Cesena andiamo alla Nazione dicevamo la sanità al setaccio è l'apertura scelta dal quotidiano fiorentino blizzi dei carabinieri dei Nas negli uffici dell'assessorato regionale inchiesta sui medicinali indagati funzionari e farmacisti venduta la casa del delitto Meredith sono umbri gli acquirenti dell'immobile prezzo di mercato ci mancherebbe viene da dire recuperati gli antichi statuti a Gualdo Tadino e poi quando Tarek Aziz parlò di pace ad Assisi è deceduto l'ex ministro degli esteri del regime iracheno di Saddam Hussein che nel 2003 compì la storica visita e poi dall'Alto Tevere Bianzino fu omissione di soccorso condanna confermata per l'agente di polizia penitenziaria che non soccorse l'uomo di Pietralunga arrestato e morto in carcere a capanne chiudiamo la carrellata di prime pagine con il messaggero anche qui apertura su Terni anziano ucciso arrestata la badante l'annuncio a Terni durante la festa dei carabinieri è stata la colfa dato alla banda le chiavi intanto più arresti e denunce vita dura per i ladri assalti in case scoperti in sette casi su dieci e poi blizzi in regione perquisizione e accertamenti ne parla anche il messaggero il NAS e la polizia giudiziaria negli uffici della sanità a Perugia con l'estate torna la sosta selvagge in centro i giovedì sono da pienone ma i residenti non tolerano più il parcheggio e poi weekend caldo ma anche possibili temporali ci avverte Gilberto Scalabrini sul fronte meteo possiamo dare un'occhiata al nostro sito internet trgmedia.it che apre proprio con la notizia relativa alla cerimonia di ieri a Sant'Ubaldo centinaia gubbia all'inaugurazione del restauro dell'area verde della basilica un grazie a chi ha contribuito Gubbio e il patrono un rapporto unico le parole del cardinale Bassetti grande soddisfazione espressa sia da Monsignor Panfili sia dal presidente della fondazione Cola Iacomo fondazione che tra le tante iniziative promosse a Gubbio appunto teneva particolarmente a questa ovviamente descritto in maniera approfondita quanto accaduto ieri anche alcune dichiarazioni un luogo di preghiera e anche di maggiore condivisione e fruizione ha detto Monsignor Panfili vedete invece a destra Pierpaolo Bisoli il nuovo allenatore del Perugia mentre questo per quanto era lo sport in alto appunto la cronaca in as a Perugia presso l'assessorato regionale alla sanità se scendiamo troviamo ovviamente in fondo l'altra notizia di sport che vedremo più tardi quella del Gubbio Fioriti l'ex presidente si dimette da amministratore delegato i rosso-blu si affidano all'avvocato Grassani per il ripescaggio lasciamo il nostro sito più tardi potrete trovarvi anche questa rassegna stampa andiamo a sfogliare i quotidiani insieme iniziamo dalle pagine regionali con il giornale dell'Umbria che parla di violenza sulle donne per strada o in caso un terzo delle Umbre a rischio violenza l'Istat il fenomeno appare in calo ma insomma è un calo relativo il 62% degli stupri è commesso da un partner attuale o dall'ex le molestie sessuali sono opera in genere degli sconosciuti e qui la vicenda di cui dicevamo soccorre una ragazza finisce sotto processo picchia l'ex fidanzata e minaccia un giovane col coltello ma viene malmenato e allora che fa denuncia l'uomo che aveva soccorso la ragazza e che ora dovrà difendersi davanti al giudice siamo veramente se non ci fosse di mezzo la violenza alle comiche in Umbria 90 reati al giorno i dati dell'arma dei carabinieri calo del 14% rispetto all'anno scorso in manetta 756 persone oltre 6.000 quelle denunciate intanto la politica tira le somme la Lega che non le manda dire nel centro-destra dice Ricci non tutti ci hanno creduto Carrocci il commissario regionale interpretato alla voglia di cambiamento ora nasce Lega Umbria andiamo a vedere anche l'altra faccia delle elezioni regionali poche le donne elette a sottolinearlo il centro pari opportunità Umbria lontana dall'obiettivo di una rappresentanza equa dice appunto la commissione con Daniela Albanesi e poi abbiamo per quanto riguarda ovviamente la cronaca regionale edilizia scolastica 19 milioni dal governo e la prima transce di lavori approvato col piano triennale della regione mentre è stata sottoscritta la carta di Milano per il diritto al cibo intesa tra Perugia e Assisi 23 le associazioni che dovranno occuparsi del controllo e del decoro dicevamo dei nassi in regione acquisiti documenti al broletto indagini su soggetti in rapporti di lavoro con gli uffici della sanità vedremo se ci saranno sviluppi e poi la politica Forza Italia e Velenia Palazzo dei Priori squarta aiutato da Romizi non mi risulta dice il diretto interessato i laureati a Perugia sono tra i più pagati in Italia la tenero i primi posti della classifica nazionale sui livelli contributivi questo per quanto riguarda il giornale andiamo al Corriere ripartendo dalle pagine regionali e dai nas al broletto autorizzazioni fantasma sarebbe questo ciò che cercano i carabinieri acquisiti i documenti sotto la lente le determine per le strutture private nel 2014 19 depositi di farmaci chiusi questo intanto è stato pubblicato l'avviso per il trasporto sanitario e per i bandi relativi allo stesso la politica voti anomali il centro-destra lavora a ricorso costituito un nucleo di valutazione per incrociare i dati e verificare presunte irregolarità la riunione lunedì ecco la lega Umbra sferzate a Romizzi Candiani e i suoi annunciano la data della nascita del partito il 20 giugno a Perugia il sindaco non dorma sugli allori dicono diciamo le camicie verdi la laurea in Umbria fa guadagnare bene la notizia la troviamo anche sul Corriere università nella top 10 questo per la regione dalla provincia di Perugia la festa dell'arma l'efficacia dell'arma più delitti scoperti il generale Boccaccio sottolinea il calo del 14% dei reati in Umbria in tutto sono quasi 33.000 diverse foto della festa e poi il caso Bianzino la condanna per l'agente di polizia penitenziaria diventa definitiva riconosciuto il torto subito Menze è scontro con la giunta a Perugia nessuna apertura dell'esecutivo Romizzi che punta all'esternalizzazione ma i genitori sono pronti alla battaglia intanto oggi la giornata mondiale dell'ambiente e il programma dei festeggiamenti e cinema e calcio a Perugia Love Film Festival al Morlacchi il ricordo di Federico Fagioli tra i premiati anche l'ex allenatore dei grifoni Serze Cosmi oggi al Trapani andiamo alla Nazione Nazione che nelle pagine regionali ci parla di Perugia città dei Cassonetti ce ne sono 74.000 nella gemella Ravenna solo 16.000 e la spesa per la differenziata è la metà quest'anno la tariffa rifiuti resterà invariata ma rimangono delle incongruenze intanto anche gli stranieri curano il verde ben 23 spazi urbani assegnati alle associazioni passa il principio che il bene pubblico appartiene a tutti dice appunto la responsabile del progetto numerini e siamo alla cronaca cronaca e curiosità passa di mano la casa del delitto Merit i nuovi proprietari sono giovani Umbri prezzo in linea col mercato dicono anche se certo sarà sempre una casa simbolo e poi la mission dei carabinieri essere vicini alla gente reati in calo ma del 14% 27.000 reati perseguiti la Lega che suona la sveglia al sindaco Romizzi non dorma sugli allori serve un cambio di passo il rimpasto dicono non ci interessa non vogliamo poltrone ma risolvere i problemi nascerà Lega Nord Umbria e poi Pian di Massiano vi augura buon appetito con piacere barbecue che torna con spazi dedicati alle grigliate libere questo per la nazione chiudiamo con il messaggero la carrellata di pagine regionali iniziando da centro storico perugino e dalla sosta selvaggia aria d'estate torna a sosta selvaggia la stagione più calda fa rifiorire l'acropoli anche grazie al successo di Perugia is open non manca però la polemica sui parcheggi intanto per la frana di Sant'Antonio tempi più lunghi caccia alle risorse per il completamento del progetto che potrà partire solo dopo l'approvazione del bilancio e poi alcol e droga in auto bloccati in 500 ovviamente non tutti in un'unica operazione il bilancio è una delle voci di bilancio dell'attività dei carabinieri un anno di lavoro la sfida per la sicurezza allarme sulle strade per l'abuso di sostanze da parte di chi guida questo per quanto riguarda il messaggero andiamo a sfogliare i quotidiani nelle pagine dei comprensori poi vedremo anche economia e cultura da città di castello il giornale dell'Umbria studenti 104 volontari in ospizi e centri di cura con il progetto conoscere per crescere gli alunni delle superiori trascorreranno vacanza aiutando chi ha più bisogno una bella esperienza caso Bianzino confermata la condanna mentre a Umberti le soddisfazione per l'elezione di Guasticchi ormai della scorsa settimana servizi domiciliari ad Assisi c'è la gara appalto da 474 mila euro per l'assistenza minori, anziani e disabili domande entro il 16 luglio intanto a Bastia si lavora contro degrade murales volontari che si danno da fare con le pulizie da Gubbio l'apertura che troveremo su tutti i quotidiani nuovo volto per la Basilica di Sant'Ubaldo dopo due anni di lavoro il luogo di culto diventa appunto di riferimento per gli eventi qui il taglio del nastro della cerimonia qui una veduta dall'emiciclo sulla pianura Eugubina una splendida panoramica con la croce che è stato il primo atto diciamo di novità di questo luogo e che poi ha ispirato la ristrutturazione dell'intera area esterna via Perugina fase conclusiva dell'intervento per la prossima settimana prevista l'asfaltatura della strada a breve anche la nuova illuminazione intanto a proposito di iniziative oggi è la volta di Arpulimo Molmonte cento ramazzi in azione insieme all'associazione Lenza Eugubina per ripulire gli stradoni dopo le baldorie e appunto le festività ceraiole che hanno lasciato anche strascichi in termini di rifiuti da Foligno Movida pronto il gruppo di lavoro le priorità da risolvere la sicurezza della zona il degrado e la convivenza tra residenti clienti e commercianti e poi la notizia di cronaca lascia il suo furgone scompare nel nulla Pierpaolo Donati mentre a Gualdo ritrovati gli statuti e le pistole il furto nella sede della municipale sono stati ritrovati dai carabinieri e si tratterebbe di un'abitazione proprio a Gualdo Tadino rifiuti a Cannara al via la raccolta porta a porta e da nocera una camminata per gli studenti dell'Ipsia e del liceo andiamo al Corriere dell'Umbria anche qui ripartiamo dai comprensori in questo caso da Assisi l'orto sinergico rispetta la vita e promuove la sensibilità alla natura il progetto avviato al Bosco di San Francesco su iniziativa della Sisi Nature Council e poi volontari della lista civica che scendono in campo per contribuire al decoro della città a Bastia Umbra un'operazione civica sicuramente lodevole e mostra tornando alla Sisi di Sergei Glinkov alla scena di scena alla Minigallery oggi alle 18.30 da Città di Castello esplode la polemica sull'insegnamento botte risposta tra 5 stelle onorevole Ascani in merito alla sua abilitazione la cronaca finisce contro moto grave un centauro lungo la provinciale che porta a San Giustino e a Città di Castello fine settimana nel segno dello sport piccoli e grandi atleti si cimentano in appuntamenti di calcio e motocross ancora dall'Alto Tevere Bim Bim Bici per crescere nel rispetto per tutto quello che ci circonda il progetto promosso dalla Fiera delle Utopie concrete con Team Bikeland si concluderà lunedì da Gubbio ampio spazio all'inaugurazione degli spazi da Basilica di Sant'Ubaldo in centinaia al taglio del nastro per gli interventi realizzati con il contributo della Fondazione Cardinale Bassetti devoto di Sant'Ubaldo ha detto con una battuta a Perugia mi dicono sei sempre a Gubbio ha detto l'Arcivescovo nel suo intervento i risultati ottenuti grazie alla sinergia di imprese e volontari non c'è soltanto il pur sostanzioso contributo della Fondazione ma ben 43 aziende insieme all'Università Muratori hanno lavorato su questa struttura l'elenco dei vincitori del concorso pittorico della società Balestrieri sono stati scelti per aver centrato i valori della tradizione i tre ragazzini abbiamo visto in un servizio questa settimana sono stati premiati alla Galleria della Porta e oggi anche il Corriere ricorda l'appuntamento con Arpulimo al Monte da questa mattina tra pochi minuti per chi ci segue in diretta dalle 8.30 il raduno dei cittadini per pulire gli stradoni da Gualdo ritrovati i statuti e l'Audario erano stati rubati insieme a due pistole e denaro dagli uffici della Municipale documenti antichissimi e di valore inestimabile fortunatamente sono stati ritrovati grande guerra al via le conferenze anche a Nocera Umbra Foligno apre il Corriere con il giallo sullo scomparso di 48 anni l'appello della famiglia si torna a parlare anche di Galleria La Franca all'inchiesta della Procura si affianca un'indagine interna da parte di Quadrilatero che ieri ha emesso un comunicato dicendo che stando a quanto emerso ci sarebbero appunto alcune incongruenze che però non inficerebbero la sicurezza appunto della sede stradale c'è un 10% in Galleria dove lo spessore appunto è inferiore ma questo significa che la Galleria va rafforzata in alcuni in alcuni punti si apre il confronto sulla Movida fissato per metà mese il primo vertice per fare chiarezza sui problemi che incontrano commercianti e cittadini intanto la Umbra Cuscinetti premia l'originalità degli studenti i bimbi da terza dell'istituto comprensivo di Bevagna si aggiudicano la quarta edizione del concorso in viaggio con gli svitati a Spello invece è la notte delle infiorate così le vie del Borgo si trasformano in una distesa profumata siamo alla nazione anche qui ripartiamo dai comprensori da Assisi piscina scoperta ormai lotta contro il tempo non sarà facile avere l'impianto a disposizione per la stagione estiva da Gubbio la Basilica di Sant'Ubaldo torna a risprendere i restauri conclusi il Cardinale Bassetti siamo nel cuore pulsante della comunità eugubina realizzati locali per ristoro e servizi per pellegrini e gruppi appunto che potranno trovare momenti di convivialità oltre che di meditazione e preghiera a Sant'Ubaldo Alessandro Baldelli vince i giovanissimi scrittori Procacci il concorso letterale indetto dalla scuola primaria di Mocaiana mentre anche la nazione ricorda recuperati gli storici statuti della città di Gualdo Tadino via la gara per l'affiramento del 118 a città di Castello la indetta l'Asle 1 sono quasi 3.000 trasporti annui in Alto Tevere e poi progetto d'amore tre giorni dedicati al calcio e alla solidarietà con i baby provenienti da tutta Italia e un anticipo di sport svanisce il sogno dell'A l'Alto Tevere rinuncia il volley il club non si è iscritto alla Superlega non ci sono i fondi e quindi perde un prezioso patrimonio sportivo la città e l'area Alto Tiberina esposizione cinofila campioni in passerella successo per la terza edizione a Umbertide e poi niente maxischermo per la Champion Bacchetta che pure è giuventino puro sangue il sindaco deve dire di no per motivi di bilancio alle richieste dei tifosi bianconeri tifernati però vedete gli regala la maia di Tevez come dire li consola in maniera sapiente caso Movida soluzione lontana il summit col sindaco non decide siamo a Foligno restano il nodo sicurezza e le polemiche sul degrado urbano questo per quanto riguarda ovviamente la nazione che nella seconda pagina parla di Spoleto parcheggi gratis per i disabili la decisione del comune ridotta anche le tariffe dell'abbonamento diurno nei giorni lavorativi lasciamo la nazione andiamo al messaggero qui dai comprensori recuperate le tre pistole rubate ai vigili ma soprattutto gli statuti da Gualdo Tadino mentre da Gubbio dissequestrata l'area di via Fontevole che era stata appunto sequestrata per l'abbandono di rifiuti a modi di scarica a cielo aperto siamo con il messaggero a Foligno al parco fluviale arrivano i cacciatori antidegrado armati di ramazze e decespugliatori hanno dato decoro all'area verde è una felice concorrenza quella che si sta scatenando in varie città sotto il profilo delle iniziative civiche come vedete a Foligno si pulisce a Bastia si pulisce oggi anche a Gubbio si pulisce insomma tutto volontariato davvero positivo lo è sempre il volontariato ma questo ha maggior ragione tutto pronto a spello per la notte dei fiori con le infiorate tanti appuntamenti nella splendidissima colonia Giulia e poi ancora la Foligno con la Fucina dell'arte il centro fa cultura in cantiere performance artistiche dal vivo incontri e dibattiti lasciamo i comprensori andiamo a parlare di economia e cultura per chiudere iniziamo dal giornale dell'Umbria con la crescita la ripresa sarebbe solo nel Perugino nel 2014 la provincia ha fatto segnare un aumento del valore aggiunto mentre a Terni il dato resta negativo chi genera più ricchezza in testa gli altri servizi il commercio pesa per il 23% l'industria in senso stretto per il 18% e dalla Camera di Commercio dicono fuori dalla recessione ma monitorare le aziende meno internazionalizzate e poi sviluppo Umbria a Career Day per raccogliere idee e progetti dei giovani presso lo stand in Cento hanno lasciato i loro contatti il rimborso pensioni a rischio l'allarme delle associazioni di consumatori in precisione nel decreto potrebbe non essere convertito entro il 20 luglio intanto Confindustria vede quattro imprenditori Umbri nel Consiglio Generale Nazionale sono Ernesto Cesaretti Antonio Alunni Marco Cardinalini e Fiorenzo Lucchetti questo per il giornale col quale restiamo ma passando alle pagine della cultura e Salenda Città di Castello il Festival delle Nazioni e Dolci Arie d'Austria presentata eri la 48esima edizione si svolgerà dal 25 agosto al 5 settembre a Città di Castello in Alta Valle del Tevere intanto Rocchi in Umbria riparte da Sun Kimon ad Umbertide e sempre la Città di Castello la mangaka Tifernate pubblicata in Giappone prestigioso riconoscimento per la disegnatrice di fumetti Umbra Caterina Rocchi lasciamo il giornale andiamo al Corriere anche qui pagina cultura col Festival delle Nazioni che parla all'Europa in anticipo sulla politica Mozart aprirà e chiuderà l'edizione in omaggio all'Austria presentato il programma dal 25 agosto al 5 di settembre e è davvero tutto per questa prima parte di Rassegna Stampa ci fermiamo ma tra poco siamo di nuovo insieme dopo la pubblicità un'ampia pagina di sport daremo un'occhiata anche ai quotidiani nazionali sulla partita un po' importante che c'è stasera Juventus Barcellona tra poco che c'è stasera